Tre vittorie su quattro incontri per il sestetto del commissario tecnico Cristiano Lucchi, secondo posto è argento per le sanmarinesi di volley femminile, under 18 agli europei dei piccoli stati disputati a Malta. Un movimento in continua scesa nonostante lo stop forzato dal torneo principale per questa federazione che non parteciperà ai giochi dei piccoli stati di Malta 2023 a causa della mancanza della disciplina. Un vuoto lunghissimo, ben sei anni, dopo Montenegro 2019 il Covid ha cancellato i giochi del 2021 ed ora Malta, come detto, non prevede il torneo di volley che verosimilmente tornerà solo ad Andorra 2025. La federvolley sanmarinese lavora alacremente per progettare il futuro e le ragazze ricevute a Palazzo Mercuri dal segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini sono la tangibile testimonianza di un movimento in fase ascendente. Essere il capitano di un gruppo di questo tipo quale soddisfazione ti dà? È abbastanza, anche perché io non sono la più grande di questo gruppo, infatti sono 2007 e ci sono diversi 2006 che fanno parte di questo gruppo e avere l'onore di essere capitano e comunque rappresentare la nazionale di San Marino è un grande orgoglio e soprattutto una grande emozione. Argento a Malta per le ragazze della nazionale Ander 18 che, come dichiarato dal presidente del CONS, Gian Primo Giardi, verranno premiate a Sport Awards in programma il 22 dicembre. svelato dal segretario generale della Federvolle Federico Valentini anche il progetto di ospitare a San Marino il torneo Juniors. Nel 2024 la candidatura sarà presentata poco dopo la fine dell'estate.